È possibile ripulire il proprio profilo Facebook eliminando i contenuti presenti? Il celebre social network permette di cancellare o nascondere ciò che abbiamo pubblicato. Quest'operazione può essere eseguita manualmente, ma richiede molto tempo. Esiste però un'altra soluzione, attraverso un'estensione di Google Chrome chiamata Social Book Post Manager. Si tratta di un tool che permette di gestire le operazioni nella sezione Registro Attività di Facebook, consentendo quindi di nascondere o cancellare i contenuti pubblicati. Prima di tutto bisogna installare l'estensione, poi è necessario aprire Facebook e la sezione Registro Attività ed effettuare un clic sull'icona di Social Book Post Manager per aprire l'interfaccia di controllo. Da qui è possibile filtrare i contenuti secondo due parametri, ossia un periodo di tempo specifico oppure attraverso parole chiave. Inoltre è possibile utilizzare la funzione Prescan Homepage, che consente di aggiungere un passaggio di conferma prima dell'eliminazione una volta che i contenuti sono stati individuati. È bene sottolineare che questa procedura di cancellazione dei post non è reversibile. Ciò significa che una volta cancellato, un contenuto è perso per sempre. Di conseguenza, è possibile scaricare una coppia di tutto ciò che è stato pubblicato. Selezionando la voce, scarica una coppia dei tuoi dati di Facebook. Infine, è buona cosa visionare periodicamente le impostazioni della privacy di Facebook per controllare se sono state effettuate delle modifiche.